La prima caratteristica di un uomo che seduce una donna è essere tra virgolette straniero, cioè avere un patrimonio genetico diverso, attirarla su un piano istintuale. Questa è una caratteristica fondamentale per riuscire a sedurre le donne. Ora, non è che tu, come dire, devi diventare straniero, perché poi ci sono tutti i vincoli logici, ma è quello di farti vedere come canaglia. La canaglia seduce. La canaglia chi è? È quello che in altri termini viene chiamato il bad boy, il ragazzo sicuro di sé, l'uomo sicuro di sé, l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo che tratta la donna, diciamo, non dimostrando nessun interesse per lei, ma dimostrando un interesse per le donne in generale, facendosi vedere come, tra l'altro creando preselezione, avendo donne che ti cercano, donne che ti desiderano, donne che ti vogliono, ma, ma, ma senza assolutamente, senza assolutamente dimostrare un interesse, cioè trattarla come tratteresti un'amica, trattarla come tratteresti un amico, anzi, in cui gli racconti, magari anche, gli racconti delle cose tue farlocche, perché devi sempre raccontare delle cose farlocche, altrimenti ti innamori davvero. Racconta delle cose farlocche e ascolta, invece, quello che lei ti dirà, perché più riesce a farla aprire, più riesce a somministrare, quindi, delle tensioni emozionali, generi quello che viene chiamato effetto transfert, che è quello che poi capita, diciamo, andando sul lettino dello psicanalista, no, tu gli racconti i fatti tuoi e ti innamori. Ma perché? Perché raccontando i fatti tuoi ti autoproduci delle emozioni, cioè lui diventa lo specchio sul quale produci delle emozioni. Quindi questo vale sia per le donne che per gli uomini, ovviamente, però falla parlare, falla parlare, falla aprire, facendo delle domande giuste. Una domanda che io ti suggerisco è, ad esempio, dire, ma qual è una cosa bella e una cosa brutta che ti è capitata nella vita? Perché se dici una cosa bella e una cosa brutta, diciamo, vai a generare il caldo e il freddo, no? Quindi vai a generare hot e cold. Lei ti racconterà un'emozione bella, ma ti racconterà anche un'emozione brutta. È come dire, se tu sei stato nell'acqua fredda, l'acqua tiepida la sentirai bollente. O viceversa. Perché quindi si genera un picco emotivo più alto. Quindi questo è un punto fondamentale. Quando è nella fase, diciamo, iniziale, se tu ti presenti subito in questo modo, distaccato, non interessato a lei personalmente come donna, come femmina soprattutto, ma interessato come donna, donna nel senso del ruolo di donna, insomma, ma non come femmina, come dire, quasi come se dicessi che a letto con lei non ci andresti, perché non la vedi femminile, non la vedi femmina più che femminile. Allora, vedrai che questo le lancia anche una sfida, no? Perché crea un challenge, una sfida, e molte donne non tollerano, diciamo, inconsciamente, di essere rifiutate come femmine. Vale anche per gli uomini mutatis mutandis, fatta al contrario. Perché vai in qualche modo a offendere analogicamente. La sua parte logica non ti può dire niente, anzi, la sua parte logica sarà pure contenta, perché dirà, questo non è il solito maniaco che ci prova, non è il solito, come dire, che ci può... Se tu sei subito lì a provarci, a chiedergli, magari negli incontri in chat, no? Sei subito lì a chiedere di dove sei, cosa fai, ma dove abiti, ma abitiamo vicino. Ecco, questo è il canto del cino e della seduzione. Questo è il bacio della morte e della seduzione. Perché se tu, quando incontri, chatti con una donna, ad esempio, la prima domanda che gli fai di dove sei, è evidente che gli dimostri un segno di interesse, perché è come dire, anzi, dimostri un segno di interesse al fatto se è vicina, vediamo, magari la vedo, magari la incontro, e se è lontana, e lui dice grazie, no? Quindi questa è l'ultima domanda che devi fare. Una domanda del genere, fatta in una chat, è il canto del cino della seduzione, è il bacio della morte e della seduzione. Perché non seduci neanche gli elettrodomestici in questo modo, no? È veramente strategicamente sbagliato, no? È proprio strategicamente sbagliato perché noti da un lato interesse, dall'altro un interesse finalizzato a una certa cosa. Questa è la cosa più sbagliata. Invece, anche adesso che oggi le conoscenze avvengono, le conoscenze avvengono spesso nelle chat, visto che oggi le conoscenze avvengono spesso nelle chat, è molto importante imparare a far aprire la persona, farla aprire emotivamente, senza chiederle assolutamente nessun riferimento specifico di dove sei, sei fidanzata, non sei fidanzata, sei sposata, non sei sposata, non devi darle nessun riferimento da questo punto di vista. Cioè, dentro di lei ci deve essere il dubbio, ma come mai? Ma questo vale sia negli incontri online che nell'incontro offline, negli incontri nelle chat. Deve sempre avere il dubbio, ma come mai questo non è interessato a me come femmina? Questo genera, diciamo, genera attrazione nella donna, perché indirettamente offendi la sua dignità di femmina, non la fai sentire femmina. E una donna non tollera non essere femmina, quindi è come se analogicamente, quindi dicevo la parte logica è tranquilla, perché mica la stai offendendo, anzi, sei estremamente rispettoso, perché, come dire, la tratti come tratteresti un amico. E questo manda in brodo di giugiole la parte emotiva delle donne, che si vive queste emozioni, gli entra nella testa un tarlo, ma come mai questo non mi vede come femmina? E se tu continui, sinceramente però, a continuare a interagire con lei, però trattandolo proprio da amica, ma nel contempo facendoti vedere che sei uno che piace molto alle donne, perché magari poi ti scambi, che ne so, il profilo e ti fai vedere come uno che piace molto alle donne, questo genera subito un'attrazione istintiva, genera un'attrazione istintiva molto molto rapida e tu potrai in questo modo coinvolgere rapidamente le donne. Ovviamente poi questa è la prima fase, che è la fase di attrazione. C'è la seconda fase, che è la fase di comfort, perché la donna cerca una sfera logico-razionale. Ma in realtà queste fasi non è che sono completamente, diciamo, dissociate una dall'altra, anzi sono abbastanza associate, perché nella fase di comfort tu dovrai farti vedere che, da un punto di vista logico-razionale, sei l'uomo giusto. E quindi dovrai farti vedere, dovrai utilizzare un po' di strategie della PNL, non il mirroring, non il mirroring corporale, o se no in alcune posture, sì, perché la camminata, ad esempio, della donna e dell'uomo è seduttiva e completamente diversa. Se sei maschio, usa la camminata di Putin, vatti a vedere i filmati di Putin. La camminata più seducente da maschio alfa è la cosiddetta camminata da pistolero. Quindi vai, impara, impara! Senti la buona novella, segui la buona novella che ti sto dando e vai a imparare la camminata da pistolero di Vladimir Vladimirovich Putin. È la camminata che seduce. E com'è la camminata da pistolero? Beh, è una camminata intanto con una postura, eccetera, ma tenendo la mano destra, se sei destro, o la mano sinistra se sei mancino, ferma, vicino alla vita, e muovendo solo l'altra mano. Questa viene definita camminata da pistolero perché i pistoleri, diciamo, o chi doveva, Putin, faccia parte dei servizi segreti, ad esempio, avere subito accesso alla pistola che stava normalmente messa in vita, nella fondina, o nella vita comunque, e la mano, se era distante, diciamo, mentre camminavi, se tenevi la mano destra distante, dovevi perdere più tempo. Invece la mano lì era sempre pronta per estrarre rapidamente la pistola in caso di evenienza, mentre l'altra mano, quella che non sparava, diciamo, da muoversi. Ecco, questa camminata, diciamo, dà un non so che di interessante. E poi anche lo sguardo è importante. Quando guardi una donna, non devi guardare dritta negli occhi, cioè dritta negli occhi sì, ma con la testa girata dall'altra parte. Cioè io guardo dall'altra parte e gli occhi però li giro verso di te. Questo è lo sguardo obliquo perché ti comunico, distacco dai risultati, cioè come se non mi interessassi, sono volto dall'altra parte, ma con gli occhi ti guardo. Ovviamente non è che devi essere girato a 90 gradi e far roteare gli occhi come se fossi uno stradico, diciamo così. Però la giusta rotazione è fondamentale. In questo modo, diciamo che vai a stimolare moltissimo. La donna vai a creare comfort, ricalca i suoi valori, ricalca le sue credenze. Se vuoi fartela subito in una sera, ti suggerisco di, quando esci, farle passare a diversi posti. Perché non kebab da sport o poi da ciccio girapizza e poi 5 euro e poi da Gigi Norbibitaro. Anche, va bene, anche magari diversi posti, per dire, la porti, che ne so, una conferenza, poi magari a prendere un caffè, poi magari da un'altra parte. Perché se, in un tempo ravvicinato, diciamo così, due ore, tu le fai girare 3-4 location diverse, che può essere, che ne so, una conferenza, una mostra, un caffè seduto nel bar e, che ne so, un aperitivo da un'altra parte, beh, sembra che avete passato tanto tempo assieme. Al suo inconscio, se ne hai questo, insomma, hai toccato, se invece vai in un unico posto e non ti schiodi, beh, lei dice, no, ma sono zoccola se gli do subito. Qui non cambia niente, sempre due ore sono passate, diciamo, quindi tra virgolette sempre zoccola è. Però è diverso se gli fai fare diversi step. Alla sua logica, diciamo, sembrerà naturale dartela. Perché questo è, beh, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, abbiamo fatto quello. Invece, in realtà, si è andata ad una mostra, ad un caffè, ad una conferenza, ad un aperitivo. Punto. E quindi quello è, no? Ecco, quindi queste sono tutte strategie che se utilizzate nel modo giusto, ovviamente con la giusta gestualità non verbale, con il giusto atteggiamento non verbale, ti fanno diventare un vero maschio alfa seduttore e ti fanno conquistare tante donne. Quindi iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i miei social e fai una donazione al canale, se vuoi fare una donazione al canale basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino super grazie. Se invece vuoi usufruire delle esclusive vantaggi degli abbonamenti, vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. E per questo video è tutto!